Il mercato dell'arte grafica, non solo quella incisoria, ma anche quella del disegno, è un po' negli ultimi decenni, ma da sempre un po', quello grafico è svilito proprio, non c'è più modo di ragionare, ma il disegno generalmente, il mercato dell'arte non lo valuta abbastanza, c'è una cattiva cultura rispetto a un disegno, perché probabilmente si trova quasi, oggi specialmente si trova un quadro allo stesso prezzo di un disegno e quindi la gente è propensa magari a preferire più un dipinto su tela piuttosto che un disegno, non nota il pubblico la differenza abissale che c'è spesso tra un disegno e un disegno dal punto di vista artistico, è un dipinto, spesso il dipinto non è così finemente condotto a termine, non è così, come dire, ispirato, è semplicemente frutto di una esercitazione meccanica giusto per riempire una tela colorata di colori spesso vivaci e volgari, siccome si vende e invece il disegno è un disegno a matita in bianco e nero, viene sottovalutato, non c'è ancora, come dire, non c'è la cultura del bel disegno, del buon disegno, del disegno ben eseguito e anche, come dire, la stessa metro di valutazione economica, non esiste, spesso si preferisce un cattivo dipinto a un buon disegno, il buon disegno passa inosservato e il cattivo dipinto invece viene acquistato dal mercato, dal pubblico che a volte non ha la cultura per poter apprezzare, soppesare, misurare la qualità artistica.